Quando si sbaglia a parlare occorre un sento ragione che una femma non ti perdona mai ma che sei santa ferita tradita e umiliata così non mi sapevo che capis o non ci ho provato nemmeno a me leggere venti pensieri ne vado e la seta stimana in d'accordo su pena che a forza non si sente per me circa ma scusa si può care sprecca di poco a niente è più importante me il domani a poco circa ma scusa stringiamo a fare tante l'ora di una volta si già le decise si mi ha tenuto paziente e prima roba da base allora portano a casa stai a fare tante stai a fare tante stai a fare tante è più importante me il domani a poco stai a fare tante stai a fare tante stai a fare tante stai a fare tante